Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune note a margine del gran rifiuto di Rula Gebral di andare ospite, di accettare l'invito di propaganda live. Ha fatto gran scalpore il rifiuto a partire dall'accusa rivolta a trasmissione di essere l'unica ospite femminile su sette invitati, dunque la trasmissione non rispondeva ai canoni di inclusività femminili che la giornalista, la brava giornalista Rula Gebral si è data per accettare gli inviti in tv, ai festival e conferenze. E dunque fedele a questo suo impegno, a questo suo vincolo etico, morale e politico, la giornalista ha rifiutato. Vediamo un po' che cosa funziona e che cosa non funziona, ovviamente sempre dal mio punto di vista. Io penso che la giornalista forse non è stata in grado di comunicare bene la sua motivazione, le sue motivazioni. Magari andando ospite poteva sollevare la discussione, poteva dare vita al dibattito e dunque poteva presentarsi all'interno di propaganda live e sollevare una serie di questioni, di problematiche che ci sono. E questo è un paese profondamente ancora maschile e maschilista nei luoghi di produzione culturale, televisivi, radiofonici, nei luoghi di produzione culturale e cinematografica. È un mondo, un'Italia profondamente maschilista nella politica, è profondamente maschile e maschilista nei premi letterari, è profondamente maschilista per quanto riguarda i management aziendali ed è anche profondamente maschilista nelle strutture familiari, perché a casa lavorano meno le donne, perché nelle famiglie lavorano meno le donne, perché i lavori di casa sono maggiormente appannaggio delle femmine, delle donne, perché le case di proprietà sono maggiormente intestate a uomini, perché le auto di proprietà sono maggiormente intestate a uomini. Dunque c'è un problema di maschilismo diffuso in Italia a 360 gradi e potrebbe essere un'occasione per parlarne. Prima riflessione. Seconda riflessione, forse rifiutando, ha innescato un polverone che ha obbligato ancora di più a parlarne, pertanto un legge brale in questo caso ha fatto centro, è riuscita a colpire nel segno, perché almeno se ne sta parlando. Certo, molti dicono, ma come se ne sta parlando? È una cosa inutile, ci sono tanti altri problemi. Sapete che io su questo terreno non seguo questa opposizione, questa appunto polemica, perché? Perché ognuno porta avanti le sue battaglie. Fedez ha parlato di omosessualità, diritti degli omosessuali. I sindacati il primo maggio potevano invitare altre persone a parlare, lo hanno fatto, hanno avuto meno eco di diritti ai lavoratori, ovviamente. E così ci sono molte tematiche, quelle ambientali del lavoro per me dovrebbero essere molto più dibattute, dovrebbero avere una eco molto più grande, ma per problemi sicuramente economici, sociali, per impatto politico che hanno, vengono messi in secondo piano, queste tematiche vengono messi in secondo piano e hanno maggior eco i diritti civili e politici. Ma, ripeto, bisogna lavorare affinché si vada a braccetto, non continuare a rovesciare, diciamo, accuse contro chi porta avanti le sue battaglie. Rule algebraic porta avanti questa battaglia, non le so che puoi imputare il fatto che ci sono molte altre cose più importanti. È chiaro, questa non è una buona argomentazione. Ed è riuscito dunque a bucare, ancora una volta, forse lo schermo, a incendiare un po' la discussione, ad animare la discussione tra chi l'ha liquido come maschilismo più che mai, no? Sciacquetta, inutile, veramente polemica sterile, non solo dei giornali della destra. Ma anche in alcuni ambienti più progressisti si è levata una voce di questo tipo. Eh, ma addirittura andare ad attaccare la termissione propaganda live, una delle poche termissioni progressiste di sinistra del paese che ha raccolto in realtà di una satira democratica progressista già inclusiva e che sciocca, inutile, veramente, veramente, cercavi un po' di notorietà. Ecco, secondo me queste risposte sono altrettanto sbagliate, ripeto. Perché? Perché va nella sua protesta accolta e discussa soprattutto dentro il mondo della sinistra. Soprattutto la televisione propaganda live a me piace tanto, è una delle cose più belle che c'è in televisione, ma anche qua non perché è progressista, ma perché la trovo brillante, perché Marco che è bravissimo disegnatore, perché gli ospiti sono spesso, no, fertili. Gli editoriali di Marco De Milano sono effettivamente un po' delle filippiche a volte, però c'è, c'è, c'è comicità, c'è musica, ci sono vignette, c'è battute, c'è attenzione a tutta serie di temi importanti, i temi dei migranti, i temi del lavoro, i temi dell'ecologia, c'è una termissione avanzata. Ma il fatto che si critichi una termissione avanzata, secondo me questo è un atto di valore, è un valore al merito, cioè portare una discussione all'interno di un ambiente che magari si sente al di fuori di questo dibattito. Dunque può anche essere un valore quello di Rule Generali. Comunque discutiamone, io la vedo così, mi sembra comunque interessante andare a discutere in quell'ambiente dove probabilmente gli scrittori, gli sceneggiatori, gli autori, dove gli ospiti sono ancora prevalentemente maschili. Poi chiudo il tema del merito, anche a me piace un mondo in cui in modo particolare quello dello spettacolo, quello dello sport, vengano coinvolte le persone competenti, nel senso che se si parla di musica classica inviteremo chi sa parlare di musica classica, se si parla di questioni medio orientali inviteremo chi ne sa di questioni medio orientali, dunque non a partire dal genere, certo, ma le quote, tanto odiate anche a sinistra da chi dice ma non è vera democrazia perché non bisogna dividere in base al sesso, ma bisogna dare prevalenza a chi ne sa di quella cosa. Le quote sono indispensabili per educare al cambiamento, perché se continuiamo a ripetere la frase il merito, il merito, il merito, si va sempre a pescare nei luoghi dove comunque c'è una prevalenza di maschi, perché ci sono più maschi giornalisti in politica estera, perché ci sono più maschi in letteratura, perché ci sono più maschi comunque nel mondo apicale della musica, delle scienze, perché ci sono più maschi si occupano di geopolitica, di geoeconomia, di più maschi economisti, più maschi, più maschi, più maschi. E allora anche pescando nel merito, nel punto apicale si va a parlare di maschi, a parlare con maschi, con maschi. Perché? Perché le donne in un paese che è poco meritocratico, ok, sono già fermate prima. E allora obbligare con delle quote rosa a ridistribuire gli spazi significa di fatto rieducare il sistema, ripensare il sistema, scardinarlo. Se in politica non avessimo messo le quote rosa, i maschi non avrebbero mai lasciato lo spazio alle donne. Dunque, come dice Platone, le buone leggi servono a cambiare la realtà, servono a modificarla in meglio, le quote rosa, l'inclusività di genere spariranno, sparirà la politica di inclusività di genere quando la si realizzerà realmente, quando la si raggiungerà, sino a quando questo non c'è. Servono, servono. Perché se io non dicessi a un certo punto che in questo locale non si fuma, ma si fuma all'aperto in un locale adibito ai fumatori, la gente continuerebbe a fumare. A partire dalla sua buona volontà alcuni non fumerebbero più per rispetto degli altri, altri invece continuerebbero a fumare. Nel dire in questo locale non si fuma e invitarle persone a fumare al di fuori in un locale predisposto, si migliora, si prova a migliorare. Sanzionare chi a un certo punto non fa la raccolta differenziata o fa fare la cacca ai cani per strada significa ovviamente educare, sempre meglio non dover educare con rigidità. Se noi riuscissimo a recuperare una legge di giustizia interiore, questo non accade spesso, anzi accade di rado e non accade per tutti. Dunque una legge serve per migliorare la società. Ho una puntata, quattro persone, due maschi, due femmine. In quel caso mi potrebbero essere tre maschi e una femmina. Sì, ok, ma il giorno dopo tre maschi e una femmina, quattro maschi e una femmina. Il problema è quello che se in tutta legge non ci sarebbero mai tre femmine, probabilmente è una, è un maschio, è un maschio. Dunque serve un mutamento in questa direzione. Dunque anch'io sarei andato ospite e avrei discusso di questo con gli autori. Se però questa rottura serve ulteriormente a discutere di un problema che è serio e reale, ben venga anche comunque come sempre nessuna crociata. È importante secondo me nei dibattiti sui diritti di qualunque tipo spostare sempre in là l'asticella della democrazia. Questo è l'obiettivo, spostare in là l'asticella della democrazia.